Salve a tutti, quest'oggi voglio fare una critica di un canale di Youtube ed è il canale di Serafino Massoni. È stato trattato molte volte in questo canale e credo questo sarà l'ultima volta. La critica, al di là dei modi in cui vengono comunicate le cose, cioè con un abuso di un meccanismo di fallaccia retorica, che è l'argomento dominum, per cui qualunque cosa, una critica venga esposta da una persona, si critica la persona e non la critica. Quindi le affermazioni del proprietario del canale per cui io ho detto la mia, voi dite la vostra, in realtà vengono smentite poi dall'atteggiamento, che non è la prima volta che capita, però il fatto che venga fatto da molte persone non legittima il comportamento, anzi, da un punto di vista filosofico, etico e di comportamento comunicativo è sbagliato. Invito a chi non conosce l'argomento dominum ad andare a vedere che cosa significa, più nello specifico. Questo per quanto riguarda i modi, su cui non voglio soffermarmi troppo, perché credo che sia più importante il discorso sui contenuti, per quanto anche i modi hanno un loro perché. Veniamo però ai contenuti, cioè alle cose inesatte dette nel canale di Serafino Massoni, che ne limitano il valore. Io conosco questo canale da un po' di anni sicuramente, perché? Perché essendo un canale che tratta degli argomenti interessanti, almeno da un punto di vista del titolo, inevitabilmente per chi ha delle curiosità culturali richiama l'attenzione, richiama un minimo di interesse, che porta a seguirlo poi, perché può dare anche degli spunti appunto sugli argomenti che tratta. Io credo che il primo, oltre ad averlo seguito molto, il primo video che io suggerì a Massoni è del 2 agosto del 2010, mi sembra, ma più di uno glielo suggerì proprio perché pensavo a un confronto, a una dialettica culturale che poteva essere interessante per entrambi. Posto che nessuno si ponga magari troppo in alto rispetto a un altro, fino a che non lo dimostra con la sua cultura, con la sua intelligenza, che non si disdegna mai. E veniamo appunto a questo. Io ho dei dubbi sia sulla cultura di Serafino Massoni, sia sull'intelligenza di Serafino Massoni. Io ho dei dubbi. E questi dubbi però li ho metterati non all'improvviso, ma seguendo il canale per un certo periodo. I dubbi sulla cultura mi derivano dal fatto che io non so con che voto Massoni si sia laureato. E questo sarebbe interessante vederlo, insomma, perché comunque la laurea o comunque qualunque esame è un modo per testare se uno ha imparato almeno quello che riguarda questo esame. Non è vincolante, perché alla fine molte persone intelligentissime non sono riuscite molto bene a scuola. Faccio l'esempio di Einstein o, per esempio, della Margherita Hacca, che non si è laureata col massimo dei voti. E faccio due esempi tra i mille. Però è indicativo, insomma. Quello che però è più, secondo me, indicativo sono i contenuti che vengono espressi. Il canale di Serafania Massoni è focalizzato soprattutto su argomenti di antropologia, perché su di questi lui ha scritto dei libri, dei romanzi, che diciamo sono prevalentemente di antropologia oppure di linguistica, in maniera magari però minore, diciamo, che lui è più focalizzato sull'antropologia. Già il fatto che lui abbia scelto di comunicare delle sue idee in forma romanzata e non in forma di saggio mi lascia un pochettino perplesso, perché quando uno ha delle idee innovative, scientifiche, comunque nel campo della ricerca o della scoperta, è più corretto esprimerle in senso di saggio, perché il romanzo, per definizione, è un'opera di fantasia, è un'opera più dispersiva, è un'opera di piacere, di compiacimento, di divertimento, lo è di meno da un punto di vista della divulgazione, almeno nel mondo contemporaneo. Quindi già trovo il modo di esprimere i suoi contenuti in forma romanzata inusuale, diciamo, sospetta, userei dire. Ma poi vengo proprio ai contenuti che vengono espressi nel canale. Io in alcuni ambiti non ho la cultura per poter dire se le affermazioni sono corrette o sbagliate, in altri sì, perché comunque ho un po' di cultura in certi ambiti. E in questi ambiti qui ho sentito dire delle cose inesatte. Prendo solo alcuni esempi, anche nell'ultimo video, oggi è il 19 di novembre 2012, si parlava, si reiterava un concetto per quanto riguarda gli stati socialisti, o comunque nello specifico dell'Unione Sovietica, nella quale sarebbe stata abolita la proprietà privata. Questo è una sciocchezza, perché nell'Unione Sovietica non è stata abolita la proprietà privata, ma è stata abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione. Il che voleva dire che fabbriche o anche terreni, imprese, che lavorano nel terreno, la terra, quindi... fattorie, eccetera, diventano di proprietà o collettiva o dello Stato. Però, se uno conosce minimamente la storia dell'Unione Sovietica, noi sappiamo che Stalin o altri gerarchi, ma gli stessi cittadini sovietici, possedevano la loro macchina, la loro casa, magari più di una casa, la famosa Dacia fuori città, per chi stava un po' meglio. Quindi è palese che non c'era l'abolizione della proprietà privata dalla penna fino alla casa. E questo è visibile anche andandosi a leggere, se uno vuol parlare dell'argomento forse sarebbe stato utile farlo, e non so se Serafino l'ha fatto, la Costituzione dell'Unione Sovietica, quella del 1936 per esempio, ma anche quella del 1976, perché poi venne una del 1977 che venne modificata, in cui è esplicitato chiaramente questo concetto. Quindi questa è un'inesattezza, una leggerezza se vogliamo, però abbastanza grossa, perché un conto è sbagliare una data, come adesso io non mi ricordo se la terza Costituzione dell'Unione Sovietica fosse del 1976 o del 1977. Un conto è dire una cosa che è palesemente inesatta. Questo per quanto riguarda, diciamo, un argomento sociologico. Altri argomenti che sono sbagliati, dal mio punto di vista, è la concezione dell'anno luce come una misura di tempo. L'anno luce è per definizione una misura di distanza, e la distanza che copre la luce in un'unità di tempo, che è un anno, che è una misura di distanza, e infatti equivale a tot chilometri, che sono sempre quelli, non è che cambia, ovviamente, la luce che si propaga nel vuoto. Invece ho sentito dire delle cose molto strane, cioè che l'anno luce sarebbe una definizione di tempo che non è, semplicemente, molto semplicemente non è. Altre cose, sempre rimanendo nell'ambito astrofisico, la definizione per cui l'universo sarebbe increato ed infinito. Questa può essere una teoria, però è sorpassata. Lo è stato per molto tempo, nell'ambito scientifico, fino agli anni 60-70, c'era ancora una forte componente che suffragava questa cosa qui su alcuni dati scientifici, su alcune osservazioni. Questo, dopo la scoperta della radiazione cosmologica di fondo, non è più sostenibile, perché noi sappiamo, sappiamo attraverso degli indizi, e la scienza si basa sugli indizi, non è scienza aristotelica che si basa sulla mera speculazione mentale, per cui io penso una cosa, non ho bisogno di andarmela a controllare. Io penso che tutti gli oggetti cadano a velocità diverse, non vado a controllarlo. Questo dicevano gli aristotelici. Poi è arrivato un galileo che ha detto, no, prima si prova, vediamo se è vero, si scopre che non è vero, e quindi la teoria va adattata alle osservazioni, da cui scienza sperimentale. che forse una persona che ha degli studi in un settore umanistico trova un po' difficile da capire, da accettare. Forse non è stato educato in questo senso qui. Questo è un errore. Perché se uno vuol parlare di letteratura, e ha studiato letteratura, può farlo. Se una persona vuol parlare di fisica, non deve essere laureato in fisica, però ha il dovere morale, e anche un po' di intelligenza, di informarsi. Dire appunto che l'universo esiste da sempre, ed è increato, cioè che non è nato in un momento del passato, non rispecchia quella che è l'attuale visione del mondo scientifico moderno, che non è campata in aria, ma si basa appunto su delle osservazioni. Lo stesso Newton, che viene citato molte volte da massoni, che pure pensava di poter credere che l'universo fosse infinito, e fosse nato nel passato, per motivazioni anche religiose, perché stiamo parlando di uno scienziato per quanto grandioso, che era di 300-400 anni fa, si rendeva conto che c'era un paradosso irrealizzabile, che era il paradosso di Olbers o Bentley. Il paradosso di Olbers e Bentley è matematicamente ineccepibile, e dice che un universo infinito, con un numero infinito di stelle, sarebbe infinitamente luminoso, come la superficie del Sole, tutto quanto. Perché man mano che le stelle sono più lontane, comunque diventano di più, quindi la quantità di luce che mandano verso la Terra rimane identica. È un'equazione matematica molto semplice che lo stesso Newton accettava per buona e diceva che era un paradosso che metteva in crisi l'idea che l'universo fosse infinito. Tra l'altro, altra opzione era che l'universo infinito in teoria non poteva essere statico, già questo Newton lo capiva, perché un universo infinito di stelle tenderebbe a collassare su se stesso. in realtà noi sappiamo che questo non avviene, perché non avviene, perché dagli anni 20 sappiamo che l'universo è in espansione, quindi la tendenza all'attrazione reciproca dei vari corpi che lo compongono è compensata dall'espansione dell'universo che anzi è maggiore di questa forza di attrazione e quindi non solo l'universo non tende a implodere, ma addirittura si espande e si espande anche a velocità maggiore perché si è scoperto che esiste probabilmente una propulsione ulteriore all'espansione che è la cosiddetta energia oscura, senza andare nello specifico. Quindi abbiamo, parliamo di argomenti in maniera superficiale in questo caso. Io non ho sentito criticare il paradosso di Olbers dicendo che è una sciocchezza, dire che l'anno luce è una misura di tempo e non di distanza o quell'altra cosa che dicevo dell'Unione Sovietica sono delle cose campate in aria, sono opinioni da bar, perché il paradosso di Olbers non può essere contestato in maniera opinionistica, è un'equazione matematica, può essere contestato in maniera matematica. Il fatto che l'Unione Sovietica non ci fosse la proprietà privata non è una questione di opinione da bar, c'è una costituzione, c'è una legge fondamentale dello Stato Sovietico che regolamentava queste cose, c'è una storia che ci dice che Stalin aveva varie case di proprietà sua privata, eccetera, eccetera. Quindi questi piccoli esempi per far vedere che ci sono delle cose che non sono esatte e sono trattate in maniera superficiale. Detto questo, ovviamente, cosa succede? Ogni argomentazione dovrebbe essere presa a sé, però quando una fonte tende a parlare di un argomento in maniera superficiale, almeno un argomento di cui conosciamo qualcosa, e lo fa reiteratamente, siamo portati leggermente a pensare con tutti i limiti del caso che forse lo farà anche in altri ambiti in cui magari noi conosciamo meno l'argomento. E a quel punto lì la fonte si discredita da sola. c'è anche da dire che poi ovviamente una persona che viene da studi umanistici che sicuramente l'avrà anche formato, però l'ha formato in un ambito, bisogna poi che questa persona si sia concessa il lusso di continuare a studiare e a leggere anche gli altri ambiti, soprattutto nel momento in cui ne vuole parlare. Inoltre, una persona che ha studiato 40-50 anni fa ha una cultura ferma a 40-50 anni fa che in alcune cose non dico che debba essere per forza peggiore, però noi abbiamo avuto l'accesso a nuove informazioni a livello biologico, a livello antropologico, a livello astrofisico, eccetera, che 40 anni fa non c'erano. Newton non aveva 300 anni fa, non aveva Boyle 30-40 anni fa e così via. Quindi abbiamo più dati su cui ragionare. Non dico che non si possano fare errori anche oggi, ma le informazioni maggiori che si hanno sono utili, ammesso che siano ovviamente comprovate. Io ho fatto spesso l'esempio che sicuramente c'è ci sono stati ottimi medici nell'antichità, però credo che nessuno si farebbe curare da un medico del Medioevo oggi, con tutti i limiti della medicina moderna, ma credo che nessuno si farebbe curare con i metodi della medicina medievale. E così deve valere anche in altri ambiti, in ambito linguistico. Dante, per esempio, faccio un esempio, aveva una concezione linguistica dell'Europa limitata, pensava che le lingue romanze fossero divise in tre fondamentalmente, cioè l'italiano, la lingua doc e la lingua d'oil, ma oggi abbiamo un panorama più vasto che non solo comprende tutte le lingue d'Europa ma del mondo e quindi abbiamo scoperto che esiste l'indo europeo, abbiamo scoperto che esistono varie superfamiglie mondiali linguistiche che portano probabilmente al nostro attico, eccetera, eccetera. questi sono alcuni esempi ce ne sono anche altri sicuramente adesso non li ricordo neanche tutti perché non ho visto o seguito Massoni che secondo me è interessante appunto per gli spunti che dà perché parla di alcuni argomenti soprattutto a livello storico, antropologico dove lui gioco forza avendo dovuto insegnare tutta una vita ha assimilato quasi passivamente una certa cultura però bisogna anche vedere come uno assimila una certa cultura perché diceva Schopenhauer che avrebbe preferito cioè il suo terrore era quello che sarebbe stato la fine del suo pensiero nella testa degli insegnanti di filosofia cioè Schopenhauer era consapevole che il pensiero filosofico di un certo livello per essere capito spiegato compreso deve essere acquisito da una mente di una certa capacità di un certo dinamismo intellettuale diceva poi un altro che era Bertrand Russell che preferiva che il suo pensiero fosse riferito ad altri da un suo nemico ma con un'intelligenza una cultura sufficiente per capirlo piuttosto che fosse riferito da un suo amico che però fosse una persona semplice o non avesse una grande capacità culturale o intellettiva per capirlo perché il suo nemico almeno avrebbe capito i suoi concetti non li avrebbe travisati li avrebbe criticati ma non li avrebbe travisati una persona semplice non è in grado di assimilare certi concetti semplice nel senso che magari non conosce un'argomentazione se noi parliamo con un con un meccanico di alto livello con un ingegnere meccanico di alto livello e non è il nostro settore noi molti concetti li perderemo e molti li fraintenderemo perché esiste un gergo esiste una cultura pregressa che ti permette di parlare di un'argomentazione e così via se tu non hai la conoscenza è come se tu parlassi in francese con uno che ha una conoscenza del francese molto limitata il risultato è che capirai poche cose e molte le traviserai questo vale anche nel settore culturale non si può sapere tutto bisogna essere consapevoli che negli argomenti in cui non si è forti si rischia di fraintendere tanto che esistono appunto le volgarizzazioni cioè degli autori che parlano di alcuni argomenti semplificandoli e usandoli con esprimendoli con un linguaggio che è quello più popolare per cui si spiegano dei concetti di alcuni settori traducendoli nel linguaggio di tutti i giorni e così che possano essere compresi ai più un esempio è un ottimo bellissimo secondo me libro di Bill Bryson che pure è un umanista ma che ha preso quattro anni per essere realizzato come dice lui stesso perché lui è un giornalista e invece il libro di cui parlo è in inglese Brief History of Nearly Everything che in italiano dovrebbe essere più o meno una breve storia di praticamente tutto o qualcosa del genere appunto di Bill Bryson che traduce praticamente la storia dell'universo fino alla nascita dell'uomo in un linguaggio anche piacevole leggero e giornalistico ed in effetti è molto piacevole perché parlando di biologia e di mille altre cose è difficile che uno abbia soprattutto un uomo medio abbia la capacità di capire ad alti livelli questi concetti lui li traduce li traduce in un linguaggio più semplice ed è piacevole per tutti e uno si può fare una base di conoscenza di queste cose qui nonostante questo il libro che è stato riconosciuto un ottimo libro di divulgazione ha degli errori ha degli errori perché ovviamente lo stesso Bill Bryson essendo un giornalista più di base umanistica linguistica ha dovuto confrontarsi con dei concetti che per lui erano relativamente nuovi perché non li aveva studiati fin da giovane eccetera quindi fondamentalmente il discorso cos'è qual è quello che voglio fare qual è la critica che voglio fare il canale di Serafino Massoni un buon canale che può stuzzicare delle curiosità intellettuali su alcuni argomenti salvo poi quando si ripete in maniera eccessiva sempre su certi tasti ma questo è il valore questo è il valore a livello di innovazione di e anche di comunicazione di grandi diciamo verità tra virgolette io ci vedo una una grossa limitazione perché i difetti sono una cultura datata una cultura non sufficiente in alcuni ambiti che vengono però trattati e questo nessuno ti obbliga a parlare di una cosa che non sai ma nel momento che lo fai sei sottoposto a critiche ed è giusto che sia così e poi vabbè c'è anche il discorso della motodologia di comunicazione questo è un altro discorso come dico non è la cosa più grave anche se noto questo arbugamento ad hominum reiterato più volte che secondo me denuncia un po' una limitazione perché se io vengo criticato o subisco una critica devo focalizzarmi sulla critica non sulla persona che mi fa la critica se no questo non fa che chiamare un circolo vizioso di aggressività eccetera quindi secondo me sarebbe tempo che Serafino Massoni che ha aperto un po' insieme con altri uno spazio di divulgazione di affrontare delle argomentazioni anche importanti venisse preso da qualcun altro che abbia l'umiltà di affrontare argomenti che conosce abbia l'umiltà di affrontare anche argomenti che non conosce ma riconoscere la sua ignoranza e quindi essere più aperto ancora al dibattito e in ogni caso sia che conosca l'argomento sia che non lo conosce abbia l'umiltà di mettersi in discussione perché nel momento in cui uno apre un canale e vuole parlare con altri non deve neanche essere seccato troppo dal fatto che ci siano domande stupide perché se no uno è come un insegnante l'insegnante deve essere pronto ad avere una classe a cui deve spiegare tanto più poi che se le domande non sono stupide per niente vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima critica per avermi seguito